Siracusa, Camera di Commercio Alicata, l'auspicio di uno spirito collaborativo per il territorio. E' tema quello delle autonomie delle Camere di Commercio che negli ultimi anni ha visto il nostro partito sempre in prima linea nel rivendicare la piena rappresentanza camerale della nostra città. Bruno Alicata, commissario provinciale di Forza Italia, desidera ricordare che tale legittima battaglia negli ultimi anni si è sempre sviluppata con una seria e matura sinergia tra esponenti politici di diverso schieramento. In tal senso è spiacevole riecheggiare il compartecipe impegno profuso fin dalla precedente legislatura di Sofia Amodio, di Marica Cirone De Marco e di Pippo Zappulla, senza dimenticare l'appassionato protagonismo di Pippo Gianni Noto, di Arturo Linguanti e di Aldo Garozzo. L'auspice che tale maturità politica prosegue Alicata permanga immutata oggi come allora e si trasforma in costante spirito collaborativo su temi primari che riguardano l'economia e lo sviluppo del nostro territorio, ancora di più atteso il drammatico momento vissuto dal nostro Paese. Si lavori pertanto nell'interesse della nostra collettività provinciale, l'unico aspetto che conta al di là degli steccati politici, siccome ha ben compreso l'onorevole prestigiato come instancabile alfiere ancora una volta sugli argomenti centrali del nostro territorio provinciale.